Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siccome quando parliamo di Atalanta, del giudizio sull'Atalanta, finiamo sempre a parlare del mercato, ma lo facciamo con toni un po' secchi, senza guardare la totalità degli aspetti, credo che si possa usare questo giorno di pausa per fare qualche commento proprio sulla situazione che il mercato ha prodotto e per capire poi da lì che cosa può succedere. Prima però di andare avanti, come sempre, vi ricordo innanzitutto di seguirmi sul canale, di iscrivervi, lasciare like e commento e vi ricordo inoltre che è sempre attivo il corso di Match Betting Academy. Se volete scoprire un po' il match betting, se siete interessati, se siete anche solo curiosi, trovate il link in descrizione, tutto completamente gratuito. Ve lo ripeto un'altra volta, non si tratta di scommesse, non si tratta di gioco d'azzardo, si tratta per lo più di matematica, di confrontare quotazioni e, sfruttando poi i bonus sui vari siti, ottenere sempre un guadagno, non una vincita, perché, ripeto, le vincite si fanno quando c'è un rischio, qua il rischio è ammortizzato prima, se non è possibile non si scommette. Allora, dicevamo, io voglio approfondire il tema del mercato per un motivo molto banale, perché se lo affrontiamo sempre con tizio sì, tizio no, tizio sì, tizio no, era meglio quello, era meglio quell'altro, non arriva da nessuna parte. L'Atalanta ha fatto sul mercato delle scelte ben precise, che siano state dettate dalla volontà dell'Atalanta, dalle circostanze, dalle situazioni, quello è impossibile per noi poterlo sapere, parliamoci chiaro, possiamo stare qua a ipotizzare tutto quello che ci pare, però è complicata. Ma sta di fatto che l'Atalanta ha scelto un modello da seguire, ha scelto delle strategie che non è riuscita compiutamente a portare a termine in tutti i reparti e quello ha, secondo me, causato qualche squilibrio in squadra. Tralasciando il tema dei portieri, che ho già affrontato in un video, che vi metterò magari poi in descrizione, ma che alla fin della fiera probabilmente si sono tenuti due portieri, perché non c'era convenienza a cedere nessuno dei due e la situazione verrà poi risolta, la difesa è quella che oggi rappresenta le maggiori problematiche, perché già si sapeva che non avendo chiuso un difensore eravamo corti, la condizione fisica poi dei difensori non è il massimo, e di conseguenza siamo spesso e volentieri cortissimi. Ripeto, di suo l'essere corto in difesa non è un dramma, perché puoi abbassare Deron, puoi abbassare Ruggeri, puoi fare tutta una serie di operazioni. Se questa fragilità si somma però ad altre, a quel punto tante piccole crepe rendono instabile la struttura, quindi è per quello che anche nel video dell'altra volta dicevo non è che sono tutti problemi da risolvere, bisogna scegliere a non paio e focalizzarsi su quelli e sugli altri agire di conseguenza, che l'atalante a necessità dei difensori è abbastanza ovvio. Se si sceglie di non andare sui difensori bisognerà abbassare qualcuno e a quel punto, per esempio, intervenire a centro campo. Perché? Perché anche lì, sulla mediana, abbiamo un Ederson che sta facendo una stagione incredibile, ma un Deron che se viene spostato dietro lascia un buco, un Kuhn-Mainers che viene tenuto per lo più avanti, di conseguenza spesso e volentieri non viene impiegato lì, e ci troviamo a usare Pasalic che non ha fatto male perché è dopo che non viene proprio utilizzato. Quindi o un difensore o un centrocampista avampresi o due difensori o un centrocampista, a seconda poi di quello che, ripeto, di quello che poi l'equilibrio rende. Però la coperta lì è corta, ma è corta da un punto di vista numerico. Sugli esterni la situazione è diversa, la coperta non è corta, la coperta è lunghissima, ma è una coperta che non soddisfa. Sulla sinistra abbiamo Ruggeri, che sta facendo la sua stagione perfetta, è obiettivamente inammovibile per rendimento. Abbiamo Bacher, che io continuo a ripetere, secondo me non è un giocatore così malvagio, anzi, ma fa evidentemente fatica a inserirsi. Abbiamo Zappacosta, che da sempre un grande contributo, ma fisicamente comincia a avere un po' di problemi. Un Attebor recuperato, con un altro segnale importante. Zortea, che non si è bene neanche capito perché l'abbiamo fatto tenere. E quindi Eolm, che non è stato praticamente mai impiegato nemmeno lui. Qua sì che c'è una riflessione, perché i due esterni che hai comprato praticamente non li usi. E allora lì sì che probabilmente le scelte di mercato non sono state corrette. Quella di Bacher, se devo dirla tutta, era anche abbastanza prevedibile, nel senso che parlando, leggendo, ascoltando le persone che conoscevano la tipologia di giocatore, già a monte ci si era domandati perché l'avessero preso. Su Eolm invece, francamente, sono un po' più curioso perché comunque il giocatore onestamente mi sembrava adatto alla causa. È vero che ha avuto dei problemi, però non giriamoci attorno. Quando i minutaggi sono così risicati, quando l'utilizzo è così risicato, non è mai un grande segnale. Ecco, mettiamola così. Però lì allora c'è un problema, perché l'Atalanta gioca tanto sulle fasce e sulle fasce non è corta, ma qualitativamente non è sufficiente. È un dato di fatto che, vabbè, è difficile anche trovarci una motivazione. Bisognerebbe poi chiederle ai diretti interessati perché un determinato giocatore va bene, un determinato giocatore non va bene e bisognerebbe poi capire che cosa ha in testa il mister. Sicuramente, se l'idea è quella di usare i quinti di centrocampo come li abbiamo sempre usati, non è che ci vuole un genio a capire perché Baccar non viene utilizzato, perché Olm non convince, mentre Atboer, che fisicamente si è ripreso, fa decisamente di più al caso nostro. Basta vedere dove va a prendere il pallone, dove si posiziona in contropiede, quanto attacca la profondità. Sono tutti elementi oggettivi, palesi, proprio non c'è niente neanche da discutere. Diverso ancora il tema dell'attacco. L'Atalanta lì ha speso tantissimo. È stata anche sfortunata con l'infortunio di Tourette, però ha fatto degli investimenti che hanno una logica, che può essere condivisa, può essere non condivisa, ma hanno una logica. Cioè l'Atalanta è andata a prendere Bicchettlar e Scamacca, che erano, sono due scommesse, due giocatori, pagati comunque grandi cifre. Poi Bicchettlar è stato in prestito, ma vabbè, due scommesse che l'Atalanta pensa di poter recuperare, di poter sgrezzare, di poter finalmente portare a farsi venere nel calcio che conta. Perché sono due giocatori che sulla carta hanno sempre dato grandi aspettative e invece poi i risultati sono sempre stati abbastanza altalenanti. Lì il rischio è palese e non può non essere coscio. Cioè sull'attacco non è stato fatto un errore di valutazione nel sceglierli. È stata fatta una scelta ben chiara. Di prendere due giocatori nel tentativo di riuscire a svilupparli, farli esplodere, farli rendere come tutti ci si immagina. E chiaramente poi il benchmark lì, la valutazione è se si riesce o meno. Probabilmente la presenza di Tourette, che è un giocatore più esplosivo, un giocatore comunque che ricorda molto di più Zapata nelle movenze e quant'altro, ha senza dubbio un po' destabilizzato il piano. Perché per me, ripeto, il piano era un tre dente, con Lukman da una parte, Tourette dall'altra e mezzo un attaccante. Per me l'idea era quella, non c'era grandi ragionamenti dietro. L'infortunio ha ovviamente un po' scompaginato il tutto. Però, ripeto, a differenza di altri settori dove non si è comprato o si è comprato male, qua si è comprato coscio di un rischio. E, francamente, anche lì, prima di dire se si è sbagliato, se è fatto giusto, aspettiamo la fine della stagione. Perché comunque sono due giocatori che, ripeto, per me la qualità si vede. È difficile magari incardinarli, è difficile magari indirizzarli sulla retta via, ma per me, una volta fatto, comunque il rendimento arriva. Sono giocatori che se li recuperi, poche squadre in Serie A hanno attaccanti del genere. Mettiamo questo in chiaro. Poi, uno può non essere d'accordo e può ritenere i due bidoni. Amen! Però, se ci atteniamo a quello che si vede, a quello che dicono i numeri, le statistiche, a quello che dicono anche gli osservatori, sono giocatori su cui si deve insistere perché hanno del potenziale che può permetterci di ottenere grandi cose. Resta l'incognitatura, su cui io personalmente sono estremamente fiducioso. Non credo sia un giocatore che ti ribalta tutto, ma credo sia il giocatore che calza meglio nell'Atalanta, tra tutti gli attaccanti. E in più, va anche detto, c'è un Lukman che sta facendo bene e c'è un Muriel che, anche nella partita con il Napoli, se devo essere sincero, l'ho visto decisamente più asciutto, decisamente più in gamba e con molta più voglia. Quindi anche recuperare quel giocatore lì è un'ultima scommessa. Se voi ci fate caso, abbiamo cinque attaccanti, in cui Lukman, Turekis è infortunato, Muriel, De Ketler, Scamacca, che sono tre scommesse, scommesse diverse, ma sono tre scommesse. Quindi ci sta, secondo me, la difficoltà in attacco, comunque il non essere prolifici. Cioè quella roba lì, secondo me, loro l'avevano messa in conto nel girone di andata, con tutto il fatto che comunque in un modo o nell'altro si riesce un po' a ammortizzare la cosa. È sulle altre parti che, ripeto, magari bisogna lavorare. Se noi avessimo avuto una fragilità offensiva, ma con le ali che funzionavano e la difesa compatta, probabilmente non avremmo avvertito questa sensazione un po' di instabilità. Per questo che io parlo di tante piccole situazioni, ma devi risolvere un paio, non è che devi metterti a fare un repulisti. Non è sbagliata l'Atalanta, l'Atalanta non è debole, l'Atalanta non ha sbagliato tutto. L'Atalanta ha creato una serie di situazioni che insieme fanno un po' fatica a coesistere. Quindi bisogna scegliere quali sono le situazioni più facili in cui intervenire e intervenire su quelle. Personalmente penso che la situazione sui portieri sia abbastanza semplice. Cioè la risolvano come vogliono loro, ma nei due devi terrenne uno, non ci vuole un genio. Difesa comunque si è chiamato a prendere, sugli esterni a quel punto, boh, non credo che si possa risolvere, perché comunque ne hai cobrati due nel breve periodo. Vederli già mandare via a gennaio mi sembra improbabile, quindi, Petro, secondo me, si vanno a puntellare due o tre cose dopo. La squadra c'è, perché la partita comunque con Napoli, in quel secondo tempo, ci ha detto che la squadra c'è. È evidente che ha delle difficoltà, che non è una squadra così tonica, non è una squadra che può garantire chissà quali minutaggi, chissà quali rendimenti costanti. Però non è una squadra da prendere sotto gamba, non è una squadra che non ha numeri, anzi, è una squadra che le qualità ce le ha. Bisogna però metterla poi anche in condizione di affrontare un campionato, perché nel campionato ci sono le squalifiche, ci sono gli infortuni, ci sono gli affaticamenti e oggi, insomma, la panchina non è che sta rendendo. Basti pensare che abbiamo ancora Miracuc. Quindi forse è quello il punto incompiuto. E io credo che se riusciamo nel mercato invernale quantomeno a liberare e a accorciare il gruppo laddove siamo in esubero, si riesce a fare anche un lavoro un po' più di costanza, un po' più specifico e si riesce poi a venirne fuori. Veniamo, vediamo, vediamo. Ripeto, io l'ho voluto fare perché se no finiamo sempre a parlare di se uno è bidone o meno, quando in verità il tema non credo sia quello, l'Atlanta non è che compra bidoni. l'Atlanta ha comprato tanti giocatori e alcuni oggi sono per contesto in difficoltà, ma nessuno, il fatto che il contesto li metta in difficoltà non implica che siano necessariamente dei giocatori scarsi ed è fondamentale, altrimenti non arriviamo da nessuna parte con nessun discorso. Fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!